Ciao a tutti, sono Luciano Nardozza, musicista e cantautore. Stasera sono qui al Festival di Quiliano, a Quiliano per la prima volta. Il Festival della Musica Emergente ci sono già stato in passato e ci torno con grande piacere. Porterò un brano che si chiama Unanimità, del mio ultimo album uscito qualche mese fa. È un pezzo molto particolare perché parla della psicologia delle folle e di come sono facili in qualche modo da manipolare e da controllare seguendo delle tecniche psicologiche. Io ho studiato in passato psicologia e sociologia. Suono la chitarra elettrica stasera e sono molto contento perché per la prima volta suonerò il pezzo in elettrico, quindi con la mia fedele chitarra. e non vedo l'ora di trovarvi tutti quanti sotto il palco per ascoltare Unanimità. A presto!